Gian Brega, 31 gol in stagione, 18 in campionato e 13 in Coppa. Diciamo che la finale di Firenze è sempre più vicina. Sì, diciamo che abbiamo fatto un altro scalino in più, però bisogna continuare così, giocando così. Ora vediamo chi ci tocca per la semifinale. Noi bisogna dare sempre il massimo, come abbiamo sempre fatto finora, e poi speriamo di ritornare a Firenze a giocare in un'altra finale. Ecco, anche perché la domenica arriva l'Arcianese, guai e distrazioni, chiudere davanti a questi tifosi, anche perché per la nuova società gli altri due campionati sono stati sempre vinti in trasferta, quindi sarebbe un bel appuntamento con lo stadio tutto pieno. Sì, sicuramente domenica vogliamo assolutamente chiudere questo campionato. abbiamo la fortuna di giocare in casa, contro comunque una buona squadra, però noi vogliamo chiuderla cercando di vincerla, pensando a noi. Sì, speriamo ci sia lo stadio pieno, che comunque vincere il campionato con lo stadio pieno è sempre bello, soprattutto per me che il campionato non l'ho mai vinto, quindi spero uno stadio pieno e di chiudere la pratica domenica. Abbiamo sullo sfondo un Barzotti che sta facendo un po' di Baldoria, rimancava accanto a lui il suo grande amico Fiale, però si è comportato bene. Sì, non c'è bisogno di presentazione per lo scemo lì, oggi comunque ci mancava Lorenzo che per noi è molto importante, ma la coppia centrale di oggi si è comportata più che bene. Ecco, la sta arrivando, chissà cosa combinerà. Ecco, così si può anche chiudere ora dopo questo spettacolo del vicecapitano, oggi è la vicecapitano.